Ogni anno la situazione era la stessa. Nonostante non fosse la mia prima volta, l'agitazione e il nervosismo erano costanti da sempre. Nel mese di giugno il palazzetto dello sport diventava la mia seconda casa, in vista del saggio di fine anno e dopo settimane di prove, con la serata finale arrivavano anche la paura e la voglia di non sbagliare. Il saggio era infatti l'occasione per dimostrare i miglioramenti e i successi ottenuti attraverso ore e ore di fatica e sacrifici. Dopo la presentazione era il momento di iniziare, le gambe mi tremavano ed improvvisamente avevo iniziato a sudare, consapevole che non fosse a causa del caldo. I miei movimenti erano imprecisi perché, come sempre, non riuscivo a controllare l'emozione fino ad arrivare alla temuta caduta. Potevo vederla come un fallimento, ma in realtà da essa ricevevo solo la voglia di migliorarmi e di perfezionarmi ancora di più. In quel momento non lo sapevo ancora, ma quello sarebbe stato il mio ultimo saggio da protagonista. Nei successivi avrei indossato la veste di spettatrice e solo allora le emozioni prima dell'inizio sarebbero cambiate. L'agitazione si sarebbe trasformata in nostalgia e il saggio non sarebbe stato più la prova del lavoro svolto, ma il simbolo di un'esperienza ormai conclusa. Quel luogo potrà aver diminuito la sua importanza, ma non sarà mai una semplice struttura sportiva, in quanto i ricordi ad esso legati lo rendono in uno dei posti per me più significativi.